Alcuni anni fa, li avevamo conosciuti che lavoravano in un percorso formativo più a catalogo, diciamo così, quindi una proposta formativa che loro avevano avvenuto. In questa conoscenza appunto c'è stata fatta una richiesta, che è stata quella di avere un percorso personalizzato per loro, per il loro gruppo di lavoro, che aveva appunto un progetto di sviluppo rispetto a nuove tipologie di utenza e uno sviluppo anche sul territorio. Questo ha significato incontrare l'imprenditore, la professione di situazione, che potete dire, grazie comunque, e entrare nel loro processo lavorativo e comprendere quali erano, prima di tutto, i requisiti in ingresso di questi operatori che sarebbero andati sul territorio. E poi quale, diciamo, esperienza, quale know-how potevamo dargli con la formazione proprio per intervenire con queste nuove tipologie di utenza e intervenire su questi territori. Infatti, come potete vedere, le tematiche sono molto operative, quindi sono legate, le tematiche che sono state trattate nella formazione, sono tematiche che riguardano l'accoglienza delle persone, che riguardano le problematiche legate alla genitorialità, ha parlato di accoglienza di famiglie, quindi non più soltanto persone immigrate che hanno bisogno di lavoro, ma famiglie, quindi immaginiamo anche un ricongliumente familiare e situazioni dove le persone hanno bisogno di avere come informazioni dagli operatori quelli che sono i servizi che sono sul territorio.